Quali sono le tre parole chiave dell'innovazione sociale? Persone, soluzioni e diversità. Le persone perché noi crediamo profondamente nella fiducia che le persone possono scambiarsi attraverso una conoscenza diretta anche in occasioni come questa, come la nostra Assemblea Nazionale qui a Cagliari, Arcipare e Sociali. E soluzioni perché appunto la nostra esperienza ci insegna che in questi sette anni abbiamo risolto parecchie situazioni grazie alla facilitazione di tavoli dove diverse persone, diversi attori, molto diversi tra loro si incontravano per cercare appunto di individuare una soluzione a un bisogno sociale, a un'esigenza concreta. La diversità perché l'innovazione sociale si compone di elementi diversi che dal basso vanno poi a costruire appunto soluzioni, vanno a costruire attività e progetti per poter risolvere un bisogno sociale. Ma la diversità di questi attori è un elemento fondamentale. Il campo di innovazione sociale è di per sé un campo di sperimentazioni e noi abbiamo messo proprio nel nostro piano strategico come associazione il valore della parola sperimentazione. Il percorso che si fa insieme, quindi la cosiddetta innovazione relazionale, se vogliamo appunto essere un po' più accademici, l'innovazione che generano queste relazioni è già di per sé un output, un prodotto che poi si può replicare e si può far conoscere a chi intende lavorare al cambiamento e all'innovazione in Italia. Affianchiamo enti, organizzazioni, istituzioni nella scelta di strategie che vanno appunto a incidere sul loro territorio. Non lo vogliamo fare da cittadini responsabili quali siamo per poter arrivare sempre di più a soluzioni concrete per chi magari ha bisogno di individuare la soluzione che molto spesso è a portata di mano.